beh 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 signori amici miei siamo ancora su Elden Ring diciamo che ieri sera è andata molto 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 bene con l'amico Kevin siamo riusciti a fare il primo boss il primo boys boys don't cry invece invece oh well you made it through the hand of that oh before the round I fear you've been I don't blame you why not si parlo meglio interessante ottima scelta bisogna andare a parlare con gli stessi NPC a volte and request audience e io a questo punto vorrei capire ciao ciao mitici ciao mitici ma niente allora andiamo un attimo a vedere qui cosa possiamo fare anche perché dopo io voglio fare un bel video tutorial che vi spiega come beh io devo andare avanti di qua siamo arrivati qua io di sera ma è anche vero che quel cavallo lì non lo si butta giù manco a sparare proiettili di uranio impoverito allora io avevo un po' di voglia di vedere questa zona ma se mi butto giù ecco già forse ho fatto la cazzetta se mi butto giù come poi ritorno su ok andiamo a vedere un po esploriamo un po questo mondo incredibile guardate quell'albero che bello che allora a livello grafico non è il gioco più bello che ho visto in vita mia ma ragazzi non è neanche brutto voglio far capire un po la gente che guardate la guardate che granchio guardate il granchio incredibile attenzione un granchio gigantesco allora questi in teoria sono in tre eccoli la e fanno recuperare le fiale così c'è scritto da qualche parte non so se è una cosa scritta penso di sì vediamo un attimo se è vero ho detto ma che cazzo e puntalo oh c'è munito dai puntalo ah ma cazzarola è finito e dov'è il una aurea ma io avevo letto che se c'è un gruppo di nemici ripristinava le fiale a me non sembra che forse me la ripristinate ne ho tre sì assolutamente sì allora quando si ammazzano tre un gruppo di tre nemici o non so se sono tre o un gruppo di nemici quindi si ripristina la questo è un fatti da ammazzare perché stanno lì fermi invece i boss no ok riposiamo perché ho visto che la prima attiva 2003 io penso di avere non so quanto perché è sotto la mia io lo posso mettere da un'altra parte a 359 sotto comunque oh 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 mio dio anche questi che sono in tre a regola a regola nulla oh 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 ma che stronzo o sta a camminare dovrebbe il frutto di roua tra l'altro che non so ciara pietra interessante questa zona speriamo bocciara pietra oh mio dio no 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 non è un cattivo senza luce ho sentito parlare di te stai alla larga dal lago di Hachel giovane si alberga un drago almeno con il suo follo un paziente di finire in genere gli allargala con il lago ma già di da star mutando al lago poi se uno si vuole poter rischiare la ciolla io penso che sto andando al lago invece arca miseria e vai cavolini di Bruxelles io credo che sbaglio ragazzi perché quando lui viene verso di me io cerco di andare indietro ok invece non devo andare indietro io devo andare verso di lui ho fatto un sacco di strada io vai a beccarla allora il fiore di foglia madre serve per farvi aiutare io non me lo ricordo più se sono venute di qua si chi si è parato scemo dietro al suo valore a un messaggio valutato se io ne faccio un altro cerca qualcosa bellissimo è proprio un messaggio top cerca qualcosa ah questa è erba io dovrei riandare a recuperare le mie anime uova di granchio eccoli eccoli allora regola sono tre nemici io ho tre impolle ne bevo una vado da lui ho due non po beh effettivamente non è che erano proprio tre nemici in un gruppo erano più tre nemici in giro a cazzo il mio problema è ambientarmi in un sounds like in cui non c'è una mappa che in realtà la mappa c'è perché io mi perdo già col puntino figuratevi senza il puntino beh diciamo che si ho capito dovrei andare a recuperare le mie 600 anime ma non è che ci faccia tantissimo ma neanche fanno schifo che si tratta di un albero che si tratta di un albero mi piace come cosa di attacco di a cazzo allora a regola sono tre tre impolle eh si eh si eh si eh si allora questo potrei spiegarmelo così ma io sono contro ammazzare gli animali a prescindere a cazzo se sei per mangiare ok ma per altri motivi no oh due volte non c'è già valutato bene mi ha valutato cazzo io voglio un singalotto io adesso sto facendo un po' di trapping raga perché sinceramente non potrei neanche andare così scarso a ok uova a combattere un boss infatti se voi avete visto dieci millesimi di secondo fa sono morto con uno un pelino più grande non so neanche dove sto andando vi dico la verità tra l'altro stavo cercando solo sto coso mi farà finire male sto coso ah ah cazzarola e come è successo sta roba un po' mi sono spaventato ah 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 eccolo qua per invitare io ti prego così perché mi hai preso un po' in giro questo frutto di roba non lo so se oh cazzarola che tanto sputtano fuori sti robi la luna non so neanche che roba è via via oh c'è questo qui ma cazzone devo essere dei personaggi che abitano qui questi qui 2.000 adesso eh per poter io non so neanche dove cavolo sto andando ok ok cazzarola quello era già grandino eh allora ragazzi parliamoci chiaro a livello di paesaggi è fantastico secondo me è fantastico sono andato in fondo a mappa io intanto tanto per ti proverai c'è l'olipido più avanti troverai un cielo liquido mi sembra che è ovviamente se è a cavallo non subisci i danni neppure se stessi regolata premix non appunto e non ti cavalli ah ciao amore ci amo urca stavo finendo stavo finendo fuori ci lasciamo ah merda proprio allora la fonte è una figata perché mi fa buttar su però diciamo la verità che non è che a meno che qui ci sia un passaggio non è che è stata una gran figata ah 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 è senza chiave amore due ciao ok ora che cazzo faccio oh sto rop bello il cavallo si ma consumo mana per un coso da 5 se capisci che ci siamo bello bello Grazie a tutti. Oh, pezzo di merda. E che scoglione sto qua. Che figata. Ah, una spada. Che campo di battaglia. E che figata. E che figata. E che figata. Beh, io sto un po' con... No, no, qua no. Qua non mi sto andando in fogliare dove ho prima. Beh, un open world... Source like. Non è niente male. Trattate l'albero che meraviglia. Non sono tre. E se le tre fiale. È l'unico modo che... Almeno che io sappia... Senza potenzialmente né niente... Per avere le fiale di magia. Sono le fiale di braccio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok ragazzi, allora qua c'è qualcosa che non mi quadra. Perché tutti si schiamatica un po'? Ritermi. Eh, ma si rifanno! Che cos'è sta roba? Ma no! Ma no! 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 No, no grazie! No, no grazie! Guardate quella parte lì che è meravigliosa! No! No grazie! No grazie! No grazie di bella! E io come faccio a salire? Ah però! Devo far venire il cavallo! Ah no! Ok col cavallo non si muore! In realtà si sta di brutto! qua! Io vedo qualcosa di grosso! In realtà io qua vedo qualcosa di grosso! Porca! via! Via! Capiamo! Via! Nooo! Sto cacchio di puntamento! Cazzarola! Avevo un bel po' di roba! Non cazzo farmo se continuo a morire! Eh raga ma da qua a là! Ah! Eh! Ne passa di 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 di! Dov'è che ero? Qua è che sono morto? Vabbè che cos'è? Ormai sono morto qua! Ma vuol dire che come un minchione sono andato sotto qui! Nooo! Non è qua! Qua non è qua! Qua non è qua! Io la cosa che non ho capito è come mai ogni tanto non lo fa! C'è una roba per rendere un po' tutto difficile! Giustante! Io sinceramente vorrei andare a prendere il mio... Oh, stai! Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm... Oh, stai! forse qua secondo me ma dove cavolini di bruciò sono andato io? ma se schiaccio triangolo no si forse qua che sono passato e sono venuti fuori con i deficienti non lo ricordo sono passato di qua no 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 Oh 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 baby Quando ci sono più di due nemici lo calcolo come un gruppo di nemici e ci dà la e ci dà la fialetta in più le richieste 2.113 per andare a livello 18 non c'è niente ragazzi non c'è niente adesso ci sono ripristinati tutti porca in teoria questi erano in 3 se mi ricaricavo prima beccavo beccavo il nooo allora io da qua sono morto perché secondo me se scendo sotto lì è la fine proprio è la mia allora vediamo un attimo porca loca ma dai ma non era morto prima ma non era morto allora sono sulle fonti che cavolo che cavolo che cavolo me l'ha ripristinata 3 no me l'ha ripristinata 3 e che cavolo fulmine sacro insomma insomma questa è la magia un po' di pietro eh alla fine io devo fare i miei conti che sono un mago un po' di pietro sì ma quando ti lancia non si capisce un cazzo dove ti lancia io sono andato qui e da scemo unito mi sono buttato giù lì sono morto ma se rivado ancora qua rimuoio ancora no grande gioco ah pronta la ribellula ok 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 Questo è un passaggio, ma c'è una macchina che spara. Porca, ma vaffanculo, dai, no, che malordo, mi aiuto Luca, che malordo, riuscirà mai Marco Drugs Games a fare un po' di farming, o riuscirà solo a fare farming simulator? Oh, ma vuoi prendere sto sciomino? Sì, no, no, a volte mi sembra che non prende proprio giusto, poi non lo so, ma sembra che sono un po' più stupido. Sì, vado qua, mi riprendo le mie anime e scapping. Allora, iniziamoti senza affrontare il boss, non si fa nulla. Diciamo che lì non c'è un boss. E se vado di corsa, dovrei fare il livello 2000 rotti. 2002, forse. Ma vuoi andare, cazzo di cavallo, ma dai, ma ti chiudono dentro, ma che senso ha? Che senso ha? Allora, tanto per cominciare devo prendere questi qua, perché se no... non vorrei che con lo stupido di col cavallo che fa avanti Andre... Esatto. In avanti magari... eh? Mi fai curare gran testa di minchia o no? Eccolo. Anche questa, Sara! Ho, poco. Quasi sono acaba. Quasi ha. è un po' troppo per me ragazzi ma sti frutti no alla fine della fiera che cazzo servono allora arma da lancio anche questo non è male guardi qui non servono da mangiare io qui ho visto un'altra mega base però ho visto un'altra mega base lì raga questo è il cavallosso come quell'altro ma perché non mi punta ma perché non punta giusto e allora le 2000 sono andate oh scemo cazzo è morto il cavallo e non lui ma no ma non ci credo sto scemonito si ma va che roba va che roba dai guarda che non fa secondo me non lo fa per sennò diventa troppo facile oh dai cazzo uno è quello lì ok vai e 3 dammi la mia fiala perché non me l'hai data perché non mi hai dato la fiala prima di arrivare 2000 raga non passa più qua via e chiaramente ho finito la brocca che testa di minchios però ti ho fregato minchios 1300 ah si 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 che bello l'ho segato sto minchios andiamo a questo luogo ah grazie c'è qualcuno che spara qua guardalo sono incazzatissimi sti stronzi va che roba eeeh la la mi becca da 8 km incredibile incredibile ah ce n'è due scapping non ne bastava uno non ne bastava uno ma va 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 van culo ma va 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 un culo grandissimo pezzo di merda, io ti voglio venire a prendere, stronzo, perché non corre più sui due giorni? io ti voglio venire a prendere come si sale di qua? ah porca loca forse eccala là ma i flessi Marco ce li hai o non te li hanno fatti il giorno della nascita? cioè fammi capire questo qua mi sta prendendo da otto chilometri e io ancora non riesco a schivarlo? serio? porca loca porca porca cipollotta come faccio a segare colori? ma c'è uno qui ma cosa mi punti quello dietro che è dall'altra parte? ok oh le ho un po' le ho finite però eh ci mette una vita a fare sta roba sto scemo lì no non ce la fai a prendermi eh? io ce la faccio a prenderti e io ti prendo ciao che faccio di topo eh non posso fare il ciccio così eh però tu sei salito? come tu mi hai preso io ti ho preso ciccio riccio però adesso non spari più adesso lui non ride più è morto questo parassita no io voglio prendere quell'altro parassita no 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 a capire come si lanciano i dardi potrebbe anche essere fico lanciare un dardo porca ah però finito tutto finito tutto cazzone di merda allora se lo stronzo di sopra mi prende siamo fottuti ragazzi non mi sto neanche guardando la cosa mi piace che ore sono inventario allora stasera si fa la pizza allora perché sempre se solo avessi non ho potuto visione di si tratta si è il momento di 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 eh è il momento di è il momento di dito scusa è il momento di dito guarda mi piace ok allora a questo punto raga se lui mi prende io sono schiattato eccolo là però se io uso il cavallo stu mierda dovrebbe saltare un po' di più di quanto salto io stu mierda è caduto il pergamino della casa reale ok andiamo giù oh 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 mi ha ripristillato tutto fico quanti soldini ho due due posso fare un potenzialmente un potenzialmente posso farlo ragazzi e ah per il messaggio grandi che figata mi hanno valutato il messaggio e mi ha dato le ampolle bello ha un senso mettere i messaggi ha un senso mettere i messaggi che ti danno poi una mano in game quando qualcuno se li valuta fico figata quello a mio avviso è un cane e secondo me fa pure male non 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 Grazie a tutti. Dovrebbe anche ripristinarmi, in teoria. Beh, andiamo un attimo a vedere sti abiti. Allora, questo è fisico 4. Però fa tanto di peso. Ma questo fa schifo. Vediamo quella che c'è su adesso. Questo. Questo fa 10 e 9 di magia, eh? Ma io non ho ancora preso niente. No, è quello che fa più di magia, questo. Perché dovete contare la classe che voi siete, ragazzi. Io adesso so like... soulslike. Sennò poi qualcuno dice che li pronuncia male. E ha anche ragione. Soullike. I soulslike. Li ho giocati tutti. Adesso non mi ricordo se li ho portati tutti sul canale. Ma credo Demon's Souls sicuro. Forse ha anche Dark Souls. Bloodborne l'avevo platinato prima di... Esiste le scarabelle? Anche alcune acri mi sconfiggi per riempirle un po' le corrispondenti. Ah, basta sconfiggerli. E mi ha riempito le ampolle. Questa? Ah sì. Fico. Sì, ma poi quando arrivi al boss... Problema non sono i cazzoni che c'è in giro così, che ti ribecchi in giro così. Problema quando arrivi nei mini boss, i boss... E questi qui hanno una velocità impressionante. Magari per qualcuno di voi ragazzi sono una cagata, ma non per tutti, eh, devo dire. Per me no. È la loro velocità che mi frega. Beh, già che ho trovato un punto di sosta in ruina, già mi piace. Sì, scusate, scusate, distrutisci. Tutto mi rovina. Cos'è? Sì, scusate, 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 scus Sì, diciamo che aiuta, aiuta a essere mago sinceramente morto questo l'avrei fatto molto più torna seccata io lo vedo dai sacchi effettivamente, anche puoi dargli una spadata al sacco eh tocca la macchia di sangue che cosa faccio? cosa faccio se ti tocca la macchia di sangue? non capisco beh, questo fiorellino che secondo me, se muoio e ritorno qui, me lo non ha un po' le di magia io volevo trovare un altro bel falò qui così poi io vi saluto vieni qui aspettino ma che cazzo mi punti di là? che bevito ce lo fa come cazzo? sono tutti i giorni oh, due mena ripristinate buona stampa di gallina in salamoia cosa fa? incrementa l'acquisizione di rune per un periodo follow come c'è questo paolo? oh, boccello oltre al boccello di un oro glorioso l'acqua di quest'anno matura si bello di sciatta colossale mi è anche ammazzato uno squiato basta mi è ammazzato fino a qui non so ok mi ha ripristinato oh, cavallino arriva un cavallino di quelli stronzetti che cosa so se sono sono a fondo mappa sono di india di servizio questa è l'aria che c'è di servizio di servizio di servizio non avuti su di servizio di servizio golevi va a fare il cavallo non so come è tutto il cavallo che sei poverino? poverino sono 20 soldini ma un falò un falò un falò un falò non c'è non c'è niente con l'alto e tu Marco Dransky cercavi il falò e non lo trovavi eccolo qua che bottello che bottello capanna dell'artista ho finito nostalgia di casa wow è una figata vabbè dai aumentiamo di livello e poi noi ci vediamo perchè questo soulslike è molto bello ma è anche veramente tosto eh raga allora la destrezza vediamo un attimo cosa mi fa un livello posso andare se portiamo sulla vitalità cosa mi fa? da fuoco c'è un po' di vitalità perchè effettivamente è vero che devo salire il madonna 2003 non ho fatto niente aggiungere un po' è possibile che ho preso un cazzo allora allora nel menù poi non risale stregoniere incantieri chi fa già un bastone per lanciare un sigillo invocatore internazio determina il numero di stregonieria due ordine al forziere qua poi ah puoi mandarlo al forziere c'è un cazzo l'abbandona accedere a tempo facciamo a mattino esattamente esattamente siamo di nuovo al mattino siamo su Elden Ring Marco Drums Games che vi saluta tre ore e tre per non fare praticamente nulla del gioco grazie a Bandai Nanco Entertainment e From Software che è la ditta che ha fatto il gioco Miyazaki o Miyazaki non mi ricordo come si chiama colui che ha fatto questo capolavoro comunque è un gioco bellissimo e è difficile eh ok ragazzi vi ricordo di seguirmi su YouTube Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch vi raccomando di mettere la campanella mi piace e commentate le mitiche live e i tutorial i video e i i BBB che fa Marco Drums Games voi siete mitici e io sono un più mitico di voi ciao a tutti al prossimo video e live di Elden Ring vi ricordo sempre che tutte le live che vedete qui poi vengono salvate su YouTube nella playlist di ogni gioco ok quindi mi raccomando di vedere tutti i video tutti i centinaia di migliaia di ore di ogni video ok ciao a tutti ragazzi